Il lavoro di gruppo ci ha permesso di confrontarci tra di noi, di accettare le varie scelte traduttive che ognuno di noi proponeva e è stato anche un banco di prove per la relazione, il tipo di rapporto che poi abbiamo avuto in seguito con il revisore di Bozze. Il lavoro e le prospettive. Allora, questo corso è stato, oltre tutte le altre cose, anche un'opportunità per avere un primo approccio col mondo del lavoro e entrare un po' anche nell'ottica di rispettare le consegne, le date di scadenze ed entrare in contatto con, oltre che con il revisore, anche con lo stesso intermediario della casa editrice.